Oroscopo del giorno, domenica, 25 marzo, 2018. Ariete. Toro. Il legame ne risulterà sicuramente rafforzato. I single miglioreranno i rapporti interpersonali e apriranno il cuore a nuove esperienze. Lavoro, se siete alla ricerca di un nuovo impiego non tralasciate alcun dettaglio e non esitate a prendere liniziativa. Gemelli. Amore, oggi vivrete momenti magici come non accadeva da tempo. Se siete in coppia vuol dire che è tornato il sereno, almeno per un po', e ciò vi ispira fiducia. I cuori solitari saranno vulnerabili all'innamoramento e al colpo di fulmine, ma si tratterà di infatuazioni passeggere. Lavoro, siate pronti a correggere il tiro, se vi renderete conto che gli ostacoli per raggiungere un obiettivo sono superiori a quelli immaginati. Cancro. Amore, giornata piacevole, specie per i rapporti e le vacanze. Si prevedono colpi di scena nel rapporto di coppia, distrazioni in vista anche per gli amori più stabili. Se siete single, aspettatevi un incontro stuzzicante e preparatevi a nuovi incontri che si riveleranno interessanti. Lavoro, un pizzico di nervosismo per problemi di poco conto vi renderà irritabili. Non siate pessimisti, risolverete tutto presto. Leone. Amore, le tentazioni e il gusto della trasgressione si fanno sempre più forti e pochi resisteranno. Chiedetevi, se lo sapesse, come reagirebbe il partner. I cuori solitari dovranno rimandare un chiarimento con un ex, ma forse è meglio lasciar perdere. Lavoro, siete intuitivi e arrivate all'obiettivo come pochi sanno fare. Attenti alle gelosie che potreste suscitare tra colleghi. Virgine. Amore, la luna ostile oggi vi costringe a fare i conti con la realtà circostante, non sempre rosea. Rassegnatevi a vivere ancora con dubbi e incertezze, la vostra vita sentimentale è un disastro. I single non avranno notizie troppo incoraggianti riguardo l'amore. Lavoro, mostrate tutta la grinta di cui siete capaci. Le stelle sono dalla vostra parte e molto presto arriveranno ottime occasioni. Bilancia. Amore, non mettete alle strette la persona amata per cose futili, la vostra gelosia forse nasce dall'insicurezza di un amore. Fareste bene ad ascoltare le motivazioni altrui, prima di giudicare. Buone notizie per i single che oggi faranno incontri interessanti. Lavoro, anche oggi avrete degli impegni improrogabili che vi terranno occupati, ma cercate lo stesso di svagarvi. Scorpione. Amore, se siete in coppia oggi potrete vivere b e i momenti d'amore con il partner. L'intesa e la complicità sono al top e anche la passione ardie nei vostri cuori. I single oggi sentiranno un po' di solitudine, l'amore è ancora lontano, ma forse ancora per poco. Lavoro, domenica fruttuosa, oggi riuscirete a sciogliere nodi considerati fino a questo momento intricati e irrisolvibili. Sagittario. Amore, apritevi al dialogo con il partner se volete giungere in serata senza ansia e preoccupazione. Non irritatevi se qualche parola in più è diretta a voi. I single oggi potranno trovare la persona del cuore e dare finalmente una svolta alla propria vita. Lavoro, un maggiore realismo e senso pratico saranno la soluzione giusta per aggirare gli ostacoli che vi troverete a fronteggiare. Capricorno. Amore, la luna amica vi dà il coraggio per mettere in chiaro alcune cose con la persona amata, che potrà guardarvi da questo momento con altri occhi. I single avranno molte occasioni per realizzare i loro sogni ma faranno anche i giusti incontri per divertirsi. Lavoro, impegnatevi al massimo per mantenere gli impegni presi. Agite con professionalità se volete essere apprezzati dai superiori. Acquario. Amore, le stelle vi invitano a prendervi cura di voi stessi, a coccolarvi e a concedervi anche una breve vacanza. È il giorno propizio per prendere decisioni importanti con la persona amata. Oggi i single riusciranno ad avvicinare una persona che avevano adocchiato. Lavoro, sarete pronti ad andare fino in fondo sul percorso intrapreso. Siete intenzionati a raggiungere la posizione desiderata. Pesce. Amore, feeling totale con la persona amata, vivrete questa domenica allinsegna dellarmonia e della tranquillità. Nulla oggi potrà irritarvi. I single oggi riusciranno a conquistare molti cuori, ma tra questi chissà che ce ne sia uno che vi vada veramente a genio. Lavoro, sfruttate le energie di questa giornata per incanalare i vostri progetti sul giusto binario. Otterrete appoggi inattesi da persone che contano. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.